Secondo incontro promosso a Brindisi presso la sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco dall'Associazione L'Isola che non c'è per affrontare il tema della gestione dei parcheggi per l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, un confronto tra gli enti preposti per provare a trovare una soluzione con dei passi in avanti che si sono registrati a un nuovo appuntamento fissato per la prossima settimana. Tre temi toccati anche le difficoltà di gestione di parcheggio presso l'ex ospedale di Suma di Brindisi. Noi pensiamo che in maniera democratica i parcheggi sia esterni che interni all'area del Perrino debbano essere utilizzati in maniera indistinta sia dal personale che hanno tutto il diritto perché lavorano ma hanno lo stesso diritto anche gli utenti e su questo c'è la disponibilità da parte della ASL nel concedere come è stato definito adesso e deciso in maniera definitiva anche su proposta dell'ASL è accettata dal vice sindaco di trasferire con un atto giuridico la disponibilità del parcheggio esterno al comune che potrà così gestire quell'area. È un argomento che stiamo trattando in maniera puntuale perché bisogna risolvere il problema della carenza dei parcheggi sia all'interno del piazzale di Suma che come tutti sanno è utilizzato soprattutto dagli utenti che utilizzano la struttura ma anche da medici, da personale sanitario ma adesso sta montando anche la protesta di commercianti e cittadini che non trovano possibilità di parcheggio perché sono ovviamente posti contingentati usati da questi ultimi. Grazie 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 Grazie